in questo video vedremo come effettuare agilmente operazioni di case shifting in un'espressione regolare poi vedremo come annullare l'effetto di eventuali metacaratteri presenti in una stringa utilizzando la sequenza di meta quoting osserveremo il comportamento dell'operatore di matching in contesto lista e infine vedremo come matchare e modificare dei file testuali multilinea scrutando nel dietro le quinte del linguaggio per capire come gestisce questo tipo di operazioni buona visione è possibile modificare al volo il case delle sequenze matchate utilizzando le sequenze di case shifting ovvero backslash u maiuscola e backslash l maiuscola nell'esempio si cerca corrispondenza con la sequenza mario o con la sequenza luigi contenute all'interno del gruppo di cattura 1 all'interno della variabile frase una volta trovata corrispondenza si sostituisce la stringa matchata con la relativa forma maiuscola poiché si richiama il gruppo di cattura 1 preceduto dalla sequenza di case shifting ovvero backslash u questa sequenza di shifting trasforma per l'appunto in maiuscolo la sequenza successiva infatti abbiamo in output mario maiuscolo e luigi maiuscolo poiché partendo da sinistra della stringa si trova la sequenza mario quindi la variabile di cattura 1 è uguale a mario e viene successivamente trasformata in maiuscolo dalla sequenza di case shifting backslash u essendo poi presente anche il modificatore g la valutazione dell'espressione regolare procede e il solito procedimento viene applicato sulla sequenza luigi solito meccanismo per la sequenza di case shifting minuscolo ovvero backslash l maiuscola l'unica differenza è che ovviamente trasforma la sequenza in minuscolo anziché in maiuscolo di default queste sequenze di case shifting vengono applicate a tutta la sequenza di replace nell'esempio si cerca corrispondenza con la sequenza gruppo di cattura 1 spazio e spazio gruppo di cattura 2 entrambi i gruppi di cattura devono essere composti da almeno una word nella sequenza di replace tentiamo di trasformare in maiuscolo i due gruppi di cattura applicando il relativo case shifting però guardate cosa succede in output abbiamo sì le sequenze mario e luigi in maiuscolo però pure la lettera e è stata trasformata e questo non era nelle nostre intenzioni da ciò possiamo intuire che la prima sequenza di shifting viene applicata a tutta la sequenza di replace rendendo di fatto inutile la ripetizione della stessa sul gruppo di cattura 2 infatti rimuovendo il case shifting sul gruppo di cattura 2 e rieseguendo lo script confermiamo la nostra tesi per limitare il raggio di azione delle sequenze di case shifting dobbiamo ricorrere alla sequenza backslash e maiuscola la sequenza backslash e maiuscola definisce il punto esatto della sequenza dove termina l'effetto della sequenza di case shifting attivata precedentemente aggiungendo questa sequenza dopo la variabile di cattura 1 limitiamo il raggio di azione della prima sequenza di case shifting fino alla fine della sequenza mario la sequenza successiva a mario quindi spazio e spazio viene valutata regolarmente e utilizzando nuovamente la sequenza di case shifting sulla variabile di cattura 2 rendiamo quest'ultima maiuscola infatti se eseguiamo lo script abbiamo ora in output il risultato voluto ovvero mario maiuscolo e minuscola e luigi maiuscolo le forme minuscole di queste due sequenze di shifting interessano esclusivamente il primo carattere delle sequenze alle quali vengono applicate nell'esempio applicando la sequenza di case shifting backslash u minuscola si va a trasformare il primo carattere delle sequenze mario e luigi in maiuscolo ottenendo così in output mario con la m maiuscola e luigi con la l maiuscola solito discorso per la sequenza di case shifting backslash l minuscola solo che in questo caso si va a modificare in minuscolo il primo carattere delle sequenze matchate vi è inoltre un'altra sequenza di escape simile alle sequenze di case shifting che abbiamo appena visto ovvero la sequenza di meta quoting analizziamo l'espressione regolare nell'esempio cosa stiamo cercando di fare si cerca corrispondenza con la sequenza contenuta nella variabile saluto quindi con l'intero contenuto della variabile stessa e si sostituisce la sequenza matchata con la sequenza di replace buon salve così di primo acchito potremmo pensare logicamente che l'intero contenuto della variabile saluto rappresentando al tempo stesso la sequenza di matching all'interno dell'espressione regolare venga sostituito con la sequenza buon salve quindi la variabile saluto una volta stampata in output avrà come valore la stringa buon salve e non la stringa ciao tra parentesi tonde sicuri eh? e seguiamo lo script guardate un po abbiamo in output la stringa buon salve tra parentesi tonde eppure non vi è alcuna traccia di queste parentesi tonde nella nostra sequenza di replace vediamo cosa è successo durante la valutazione dell'espressione regolare la stringa contenuta nella variabile saluto nasconde un'insidia o meglio nasconde due insidie ovvero le parentesi tonde che come ben sappiamo sono considerate metacaratteri all'interno di un'espressione regolare quindi cosa succede al momento della valutazione dell'espressione regolare la sequenza di matching viene valutata come gruppo di cattura contenente la sequenza ciao e non come sequenza parentesi tonda di apertura sequenza ciao parentesi tonda di chiusura per confermare la nostra tesi possiamo provare a stampare in output la variabile di cattura 1 che infatti contiene la sequenza ciao poiché le parentesi tonde vengono interpretate come metacaratteri la lettura corretta dell'espressione regolare è dunque la seguente sostituzione della sequenza ciao contenuta nel gruppo di cattura 1 con la sequenza buon salve le parentesi tonde essendo considerate metacaratteri vengono escluse dalla valutazione dell'espressione ma mantenute come carattere nella variabile saluto la sequenza ciao viene quindi sostituita con la sequenza buon salve che finisce tra parentesi tonde al posto di ciao ecco spiegato il perché abbiamo buon salve tra parentesi tonde in output per risolvere il problema dobbiamo fare in modo tale che le parentesi tonde all'interno della stringa contenuta nella variabile saluto vengano considerate come caratteri anziché come metacaratteri per semplificarci la vita possiamo utilizzare la sequenza di meta quoting questa sequenza composta da backslash più q maiuscola aggiunge fondamentalmente un backslash a tutti i metacaratteri individuati all'interno dell'espressione regolare evitando così la loro interpretazione durante la valutazione dell'espressione applicando infatti la sequenza di meta quoting alla variabile saluto abbiamo in output buon salve senza parentesi poiché grazie alla sequenza di meta quoting le parentesi tonde contenute nella stringa della variabile saluto non vengono interpretate come metacaratteri e quindi valutate come semplici caratteri come le sequenze di case shifting anche la sequenza di meta quoting di default viene applicata a tutta la sequenza interessata e anche in questo caso possiamo limitare il suo range di azione utilizzando la sequenza backslash più e maiuscola nell'esempio utilizziamo la sequenza di meta quoting per sanificare la stringa contenuta nella variabile user id e si stabilisce il range di azione della sequenza di meta quoting utilizzando la sequenza backslash più e maiuscola in questo modo riusciamo a definire chiaramente le nostre intenzioni in quanto la sequenza contenuta nella variabile user id verrà valutata come sequenza di semplici caratteri mentre la parte della sequenza successiva alla sequenza backslash più e maiuscola verrà valutata tenendo conto degli eventuali metacaratteri la lettura dell'espressione regolare sarà dunque la seguente trova corrispondenza con la sequenza parentesi tonda di apertura in maiuscola di maiuscola spazio 0 2 3 5 parentesi tonda di chiusura e almeno una word e infatti come potete vedere dall'output la sequenza viene individuata con successo all'interno della variabile user code torniamo adesso a trovare il nostro caro e vecchio amico operatore di matching in quanto ha ancora dei segreti da raccontarci nell'esempio possiamo osservare il comportamento dell'operatore di matching in contesto array o in contesto lista che dir si voglia è infatti possibile popolare un array durante la valutazione di un'espressione regolare di matching sfruttando il modificatore g la combo operatore di matching più modificatore g ci consente di matchare più sequenze durante un'unica sessione di valutazione e dopo aver correttamente stabilito le precedenze tra operatori è possibile inserire ogni sequenza matchata all'interno di un array ma analizziamo meglio l'espressione regolare innanzitutto si crea l'array gruppo c dove come è facile intuire dal nome andremo ad inserire tutte le parole che iniziano con la lettera c matchate dall'espressione regolare mi raccomando occhio alle precedenze tra operatori perché se non si dà la precedenza al binding operator andremo ad assegnare all'array gruppo c il valore di ritorno dell'espressione regolare anziché le sequenze matchate come sappiamo il flag g ci consente di matchare più sequenze in un colpo solo in quanto non blocca la valutazione dell'espressione regolare prima della sua fine in questo modo partendo da sinistra della stringa si matcha prima la sequenza cane poi casa e infine cetriolo queste sequenze una volta matchate vengono inserite immediatamente nell'array gruppo c ed infine stampate in output l'operatore di matching si comporta nel solito sistema pure in contesto hash nell'esempio si assegna all'hash frutti hash la sequenza matchata nella variabile frutti corrispondente a gruppo di cattura composto almeno da una word spazio gruppo di cattura composto almeno da una word in contesto hash le sequenze matchate si traducono automaticamente in coppie key value poiché saranno trovate le corrispondenze mela verde banana gialla e mandarino arancione anche in questo caso le sequenze matchate vengono inserite al volo all'interno dell'hash e infatti l'operazione di stampa effettuata nel ciclo for each ci stampa tutte le coppie key value così create in output passiamo ora ad introdurre il concetto di avarizia delle espressioni regolari nel perl dovete infatti sapere che di default i quantificatori delle espressioni regolari sono gridi o avari detto all'italiana questo cosa vuol dire vuol dire che cercheranno sempre di matchare più testo possibile e questo a volte può essere un problema ma guardiamo l'esempio per farci un'idea nell'esempio si tenta di matchare qualsiasi sequenza che si trovi all'interno dei tag sostituendola con la sua forma maiuscola quindi se tutto funziona avremo in output la stringa edward tutto maiuscolo poiché si trova all'interno dei tag poi e minuscola dal momento che non si trova tra i tag e infine alfons maiuscolo poiché si trova anch'esso all'interno dei tag ma se eseguiamo lo script qualcosa non va il problema è che il carattere e pur trovandosi all'esterno dei tag viene convertito in maiuscolo cerchiamo di capire cosa è successo proviamo a stampare in output il contenuto del gruppo di cattura 1 per capire cosa abbia effettivamente catturato eccolo qua il problema il gruppo di cattura 1 come possiamo vedere dall'output ha catturato qualsiasi carattere compreso tra il primo tag b e l'ultimo tag di chiusura b invece di limitarsi a catturare i caratteri compresi tra i due tag b questo accade poiché il quantificatore asterisco è come abbiamo detto di default gridi quindi proverà a matchare quanto più testo possibile per raggiungere il nostro scopo dobbiamo rendere il quantificatore asterisco non gridi e per fare ciò dobbiamo aggiungere il modificatore di non avarizia viene considerato modificatore di non avarizia il punto interrogativo se preceduto da un quantificatore nell'esempio aggiungendo quindi il punto interrogativo dopo il quantificatore asterisco all'interno del gruppo di cattura 1 rendiamo il quantificatore non gridi in questo modo maccerà il minor numero di caratteri possibile ovvero in questo caso troverà corrispondenza con la sequenza tag b edward chiusura tag b e tag b alfons chiusura tag b e seguendo lo script infatti abbiamo due corrispondenze trovate ovvero le sequenze edward e alfons e infine la stringa modificata stavolta come desiderato dall'operazione di replace ovvero le sequenze edward e alfons maiuscole poiché situate tra i tag e la lettera e lasciata in minuscolo poiché al di fuori dei tag passiamo adesso a vedere il cavallo di battaglia del perl ovvero la manipolazione di file testuali lo script che ho preparato per l'esempio legge in input il file di testo che passiamo come argomento ovvero in questo caso il file user data il file user data contiene tre righe di testo ovvero nome duke cognome nukem e data di nascita del celebre personaggio il nostro script prima di stampare in output riga per riga il contenuto del file effettua le sue operazioni di sostituzione e infatti se si esegue lo script come potete vedere funziona tutto a meraviglia dovete sapere che il perl utilizza un trucco veramente ingegnoso per massimizzare l'efficienza nelle operazioni di manipolazione dei file guardate un po cosa succede se aggiungo questa variabile strana qua chiamata accento circonflesso in maiuscola e rieseguo lo script in output non abbiamo nulla e per di più è comparso dal nulla questo file chiamato user data punto buck nella directory dello script indaghiamo innanzitutto se guardiamo il file user data possiamo notare che il suo contenuto è stato modificato seguendo le direttive del nostro script quindi ecco dove è finito il nostro output è stato ridiretto sul file user data mentre se guardiamo il file misterioso comparso dal nulla chiamato user data punto buck ci accorgiamo che non è altro che la copia del file user data prima delle operazioni di replace apportate dal nostro script e sì se ve lo state chiedendo la chiave del mistero è proprio la variabile accento circonflesso in maiuscola dovete infatti sapere che il valore di questa variabile è undef di default ma quando le viene assegnata una stringa modifica il comportamento del diamond operator come sappiamo il diamond operator ci consente di aprire chiudere o leggere una serie di file se passati come argomento altrimenti legge direttamente dallo standard input se non specifichiamo alcun file come argomento quando però alla variabile speciale accento circonflesso in maiuscola viene assegnata una stringa essa viene usata come estensione del file di backup e proprio questo file di backup viene selezionato automaticamente dal diamond operator come sorgente di input ma guardiamoci uno schema per capire meglio supponiamo di specificare il file file punto txt come sorgente di input e di assegnare la stringa punto buck alla variabile speciale accento circonflesso in maiuscola per prima cosa il diamond operator anziché aprire immediatamente il file passato come argomento in input lo rinomina utilizzando come estensione la stringa che trova nella variabile speciale accento circonflesso in maiuscola il file verrà quindi rinominato in file punto txt punto buck e inoltre questo file sarà settato come sorgente di input il diamond operator crea a questo punto un nuovo file chiamato come il file aperto in input ovvero in questo caso file punto txt e vi ridirige il flusso di output quindi adesso ogni cosa che tenteremo di stampare in output verrà invece reindirizzata su file punto txt ora che sappiamo tutto ciò l'esempio dovrebbe esserci chiaro il diamond operator rinomina il file user data in user data punto buck utilizzandolo come sorgente di input successivamente crea il file user data e lo setta come destinazione di output infine si processa riga per riga il contenuto di user data punto buck e si stampa il tutto sull'attuale destinazione di output ovvero sul file user data in questo modo troviamo il nostro file user data modificato secondo le istruzioni del nostro script ingegnoso è possibile inoltre effettuare le operazioni di sostituzione in modalità in place ovvero senza creare alcun file di backup assegnando assegnando alla variabile speciali accento circonflesso in maiuscola una stringa vuota in questo modo come vedete il file viene modificato ma non viene creata alcuna copia di backup bene direi che anche per questo video è tutto avevo intenzione di mostrarvi anche l'aspetto one liner del pearl ma credo di essermi già dilungato troppo per questa lezione quindi per non risultare eccessivamente noioso inserirò l'argomento nel prossimo video lascio come di consueto il link per scaricare gli esercizi in descrizione mentre per qualsiasi dubbio o domanda il mio invito è sempre il solito commentate un saluto a tutti e a risentirci